Queste sono tutte case di pescatori che vivono sul fiume. Proviamo a vedere se riusciamo a entrare in casa di qualcuno. Ci hanno detto di sì. Ora, gente, questa è una classica strada urbanizzata della Thailandia, famosa per tante cose, ma oggi insieme a una persona inaspettata... Così? Dicevo, insieme a una persona che non c'entra niente con tutto ciò, vi porto in un posto dove nessun turista è mai andato. Anche perché in generale questi posti non vengono cercati. Con una guida d'eccezione che ho preso, tra virgolette, di forza, con la mia spacciataggine e la sua timidezza, esploriamo insieme questo posto. Però adesso è notte e nei posti che non si conosce è meglio andare di giorno. Are you ready? Vamonos! Buono giro, buono avventura. Timido, ma allo stesso tempo, estremamente gentile e disponibile, non sapeva minimamente cosa lo stesse aspettando. Possiamo dire che stava diventando una mia vittima. Un po' alla volta stavamo sempre di più abbandonando l'ambiente cittadino e addentrandoci sempre di più, sempre di più in qualcosa di totalmente diverso. Un piccolo dramma. Ho passato veramente questo conto e con... Ok, stai scendo. Mai, prima di addentrarci concretamente nel villaggio, voleva darmi giustamente qualche informazione di base. White horse, mountain village. Mountain village? Sì, questo mountain. Ah, questo mountain, ok. Quindi si chiama White horse, il villaggio. E se avete fatto caso, ci abbiamo messo due secondi per arrivare da dove stavamo adesso, che è il centro della città praticamente. Adesso vi faccio vedere come cambia totalmente il paesaggio. Ecco qua. Quindi questo qui, dalla città, arriva al mare. Guardate le barche, che figata allucinante che sono. Ci hanno il motore, che ricorda tanto quello di un camion. From here they can go to the sea. Ah, from here. For fishing. For fishing, they can go to the sea. Qui, visto che l'acqua è molto bassa, usano queste eliche in questo modo qui, che non vanno fino in fondo, proprio per poter navigare in questi canali. Maybe try to see, see, see water. Ah, see water. And water from kennel. Lui l'ha toccata, ma col cazzo me la pezzo. How is this man? So shit. Come al solito, vedere solo è unicamente un posto, senza interagire con le persone. È un po' come non leccarsi le dita dopo aver mangiato i fonzi. Non ha senso. Solo che il tempismo non è stato proprio dei migliori. La scuola ora è... Close. Close. Yeah, and their father, mother, go to the school to let their children back. Praticamente siamo arrivati nell'orario più sbagliato, perché la mia idea è quella di farvi vedere tutto. E nel frattempo cercare un pescatore da conoscere tramite lui, per poter andare a pescare. Vabbè, ci riusciamo. Per il momento vi faccio vedere il posto. Queste sono tutte case di pescatori che vivono sul fiume. Queste sono i loro imbarcati. Quindi dice che sostanzialmente, oltre ad arrivare nel mare, se si continua su questa strada, si arriva al mercato, dove c'entrano pesci, carne, tutto. Tutto a un tratto sotto una casa, in un posto un po' nascosto, avevo individuato una persona. Con la mia spacciataggine e la sua timidezza, eravamo una coppia perfetta. Dove è un dark person? Vuoi trai? Proviamo. Incontriamo questo signore sotto questa casa, che potremmo definire una sorta di sottoscala, con dei galli dentro delle ceste, tra l'altro tenuti benissimo ed estremamente belli, forse troppo belli. Nascondevano qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Un passettino alla volta, adesso ci arriviamo. Giulio. Il suo nome è Prappai. Giulio. Una volta rotto il ghiaccio, cercavamo di farci dare più informazioni possibili sulle persone e l'ambiente che ci stava circondando. Un po' di ha-ha-kung. E i fici per questo mese? Un po' un po'. Ok. Un po'. Ma dipende dal livello dell'acqua. Ok. 9.00 pm. Sì, andiamo all'acqua. 9.00 pm. Sì, 9.00 pm. P.M.? P.M., sì. In la nonna? Sì. E quando è il giorno di ritorno? 7.00 am. Ah, ok. All the night. Sì, all the night. Ho provato a fare delle piccole, semplici e potenti domande per entrare subito nel merito di chi avevessimo davanti. Come quale fosse il suo lavoro. E il signore molto gentilmente ci risponde che lui è un pescatore ormai andato in pezione. Per quanto tempo ha fatto il suo lavoro? Rispondendoci che è un vero e proprio veterano poiché ha fatto il pescatore per ben 50 anni. Cosa amasse del suo lavoro precedente? Qui ci ha dato una risposta che potevamo dare quasi per scontata. A lot of fish. Ovvero, lui amava quando andava a pescare e il bottino era grande. Ma proviamo a immedesimarsi in una persona del genere che vive in una casa un po' affadiscente dove caldo, freddo, pioggia, vento. Sei in balia un po' di tutti gli ambienti. Ti svegli la mattina presto o parti la sera e torni il giorno dopo stanco, distrutto, con le mani pieni di sale, motore da aggiustare, reti da aggiustare, barca da aggiustare, sacrifici immensi che l'unico modo per essere ripagati è ritornare con un buon bottino. Una risposta semplice ma molto importante. Abbiamo pure provato a chiedere se avesse un sogno nella sua vita ridacchiandoci su, rispondendoci che Quello che aveva andava benissimo. Voleva soltanto una vita tranquilla. In tutto ciò ci ha dato anche conferma che era tutta una zona sicura e potevamo camminare e parlare con le persone senza problemi. Che non è una cosa da poco. È una rassicurazione importante. Chiedete sempre. Chiedere non costa niente e fa la differenza. Mentre ce ne stavamo andando non smettevo di guardare questi galli perché erano troppo belli e tenuti in condizioni perfette. Poi Mai ha rovinato tutto. Estremamente curioso da questa cosa non perché sia una cosa bella da vedere ma è una cosa che fa parte della cultura thailandese. Sarebbe stato interessante ed è tuttora interessante farci un video sopra. E non per niente abbiamo provato a chiedere come saremmo potuto andarci. Per quanto possa essere brutale adesso che ho scoperto questa cosa devo andare a vedere un incontro. questa cosa era troppo anche per lui. Sono andato un po' oltre. Però we go to the match together. Yeah come il signore di prima stava lì queste sono altre case che sono sempre delle palafitte. Questo è il ristorante e qui hanno tutti i gamberetti che stanno essicchiando. Ti senti un odore di pesce fortissimo? Basta. Basta. Sono 5 minuti di riprese che non esistono. Poco poco poco. Dì, dì. Va a fuoco l'iPhone. Il problema è che se non uso questo non mi fa più le riprese e me le taglia. Fa troppo caldo. E qui sbagliato a mettere il piede si rompe un asse che non si deve rompere. Ciao. E questa cosa veramente incredibile. Non ci posso credere. Se non fosse stata la signora questo video non ci sarebbe. Ormai il villaggio si stava ripopolando ed era l'occasione giusta per vederlo meglio e cercare di conoscere le persone. Magari provando a entrare un po' in casa. Vivono letteralmente a contatto con la montagna la plastica e le scimmie. Da qui vengono le scimmie rocce plastica ovunque. E qui sono le scimmie. Immaginatevi di svegliarvi la notte tutti ringoglioniti aprite il frigorifero e vi trovate una scimmia che vi urla contro ecco qui è possibile. Sembra quasi che la comandano loro. Ha un sacco di bambini che dicono qualche parolina in inglese tipo di dove sei di quanti anni hai queste cose. non è aperta non è aperta non è aperta non è aperta i turisti vengono qui e sono più entrati che i turisti vengono qui. Sono tutti che mi urlano contro sono felici perché qui non vengono mai turisti o persone di altri paesi quindi veramente per loro è una novità assoluta. Proviamo a vedere se riusciamo a entrare in casa di qualcuno. in casa di lui fare questa cosa sarebbe impossibile o comunque molto molto complicata. ci hanno ci hanno letteralmente ci hanno letteralmente cacciato. È incredibile vedere come lo so personalmente non so come avere a che fare con i cani non so come avere a che fare con le scimmie tutta una serie di cose sono tutti animali che portano un sacco di malattie possono essere molto aggressivi eccetera e ovviamente però vivendoci addirittura ci giocano come se niente fosse forse è la paura che mi fotte vediamo se qua ci fanno entrare ci hanno detto di sì vediamoci le scampi ci hanno fatto entrare ma con un po' di diffidenza nel senso entrate parliamo un attimo però non ci hanno fatto andare oltre per vedere e per rispetto meglio non fare niente questo qui è il nostro chioschetto che troviamo in Italia qui è così casa chioschetto i cassonetti sono così legati e completamente sigillati per le scimmie che sennò andrebbero continuamente là dentro vorrei concludere questo video così va bene esplorare va bene fare questo quello quell'altro magari buttarsi in situazioni un po' al limite allo stesso tempo se si è in posti che non si conosce sempre chiedere e se possibile come in questo caso cercare una persona nel posto che vi accompagni anche perché vi può dare qualche riferimento in più vi può aiutare vi può dire quale è il limite con chi non parlare vedere delle cose che in quel momento non state vedendo non ci sono delle riprese ma c'è stato un momento in cui mi è stato detto guarda Giulio con quelle persone è meglio se non ci parliamo perché non è tanto sicuro nonostante io volessi tanto quando potete cercatevi una guida ci vediamo alla prossima ciao